Su 27 comuni della provincia di Cremona con una lista sola, nel nostro comune si è verificata questa anomalia. Eravamo una lista sola sulla carta, ma abbiamo avuto fin dal primo giorno un'opposizione da parte degli amministratori uscenti che non si sono ricandidati. Quindi da qui l'anomalia. Hanno invitato a votare scheda bianca, il mandato precedente avevano l'82%, questa volta la loro scheda bianca si è fermata al 50,1%, quindi abbiamo fatto quasi un'impresa. In realtà è stato duro scontrarci contro un'opposizione fantasma fatta da persone che hanno dichiarato di non stare nella competizione, ma fino all'ultimo ci hanno anche denigrato e ostacolato in tutti i modi. Metà paese ci ha seguito, ha capito il nostro intento, l'altra metà si è fidata di chi ha preferito giudicare un'amministrazione prima ancora che questa cominciasse a lavorare. Perché questo comportamento? Perché non si sono presentati? Allora, non si sono presentati dicendo che erano già 29 anni che facevano questa attività, alludendo a motivi personali. In realtà hanno dedicato molto più tempo a questa campagna elettorale che neanche a quelle precedenti. Poi perché hanno fatto così lo dovete chiedere a loro e adesso si sta pian piano svelando il piano. La realtà è che intanto il comune di Persico d'Ogimo non ha un sindaco, non ha un'amministrazione, ma ha un commissario perfettizio. Un boicottaggio è ben riuscito insomma? Un boicottaggio è riuscito per un pelo, per 18 voti. Non hanno danneggiato noi, ma hanno danneggiato il paese facendo così e se ne renderanno conto in questi mesi di assenza di un'amministrazione. Qual è il feedback che arriva dai cittadini? Abbiamo tanti attestati di stima, ma anche dai comuni limitrofi, da sindaci, dai paesi limitrofi che mi hanno scritto dicendo complimenti per l'impegno. Peccato che non siate stati capiti, ma si renderanno conto di cosa vuol dire non avere un'amministrazione comunale. Non esiste consiglio comunale, non esiste giunta, non esiste un organo democratico. Il commissario è una figura di nomina prefettizia, il cui compito è gestire il comune nell'ordinaria amministrazione. È un commissario che è già stato in altri comuni della nostra provincia e chiaramente non è il suo compito fare il sindaco, non è il suo compito occuparsi di tutti i problemi del paese, ma semplicemente di mantenere la situazione e di gestirlo fino alle prossime elezioni e decidere a lui quando ci saranno le condizioni per andare al voto.